Ciao a tutti, oggi prepareremo la classe a specchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato, burro, panna e sciroppo di glucosio. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo il cioccolato nel boccale, tritiamolo per 10 secondi a velocità a 10. Riponiamo il cioccolato in una sciatolina da parte e laviamo il boccale. Dopo aver lavato il boccale andiamo a versare la panna e il nostro sciroppo di glucosio. E andiamo a cuocere il tutto per 2 minuti a 100 gradi, velocità a 2. minuti. Adesso aggiungiamo il nostro cioccolato fondente e continuiamo a cuocere per un minuto, 100 gradi, sempre a velocità a 2. Adesso aggiungiamo il nostro burro e amalgamiamo il tutto per un minuto, velocità a 3. La nostra classe è pronta, andiamo a riporla in una sciatola. La classe a specchio viene utilizzata in pasticceria per guarnire torte, mousse e bavaresi e va versata a una temperatura di 45 gradi. Glassa a specchio. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie.